Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi grazie a ECCA andiamo a provare questi due cacciaviti elettrici di Xiaomi che probabilmente qualcuno di voi già conosce perché sono prodotti che sono già da un po' sul mercato e che risultano essere molto validi. Ma soprattutto che cos'è ECCA? ECCA è un nuovissimo store online dove possiamo acquistare elettronica e beni di quasi ogni tipo. Ma direi iniziamo con il video e vi racconto qualcosa in più tra qualche minuto. Ed eccoci qua con i miei due nuovissimi cacciaviti della Xiaomi che mi ha mandato per l'appunto ECCA. ECCA è questo nuovo store con base a Singapore che però ha sedi un po' in tutto il mondo, Europa compresa tra l'altro, dove possiamo acquistare un po' di tutto. Dall'elettronica ai beni per la casa, a attrezzature sportive, computer, hobby, giocattoli e chi più ne ha più ne metta. Avendo aperto da poco il catalogo è sempre in crescita, ma vi assicuro che si trova già praticamente qualsiasi cosa. I prezzi sono molto competitivi e soprattutto il fatto di avere sedi dislocate un po' ovunque ci permette di riceverli a casa senza dover pagare per esempio la dogana. E con spese di spedizione che al di là di essere gratuite su tutto lo store in questo momento, proprio per, chiamiamola, festeggiare l'apertura dello store, saranno comunque generalmente molto basse. La missione di Hekka è portare uno shopping veloce e rapido ai suoi utenti, tant'è che il nome stesso, Hekka, è ispirata all'omonima dea egiziana della magia e della medicina. Questa è una curiosità in più. Quindi vi lascio tutti i link qua sotto, se volete farci un giro vi assicuro che troverete sicuramente qualcosa che fa a caso vostro. Ovviamente non possono mancare su questo store le stampanti 3D, che come sapete bene sono un argomento a me molto caro. E anche su queste riusciamo a spuntare degli ottimi prezzi. Andiamo invece adesso a parlare di questi due prodotti che mi ha inviato per iniziare questa collaborazione. E si tratta di due cacciaviti elettrici per l'appunto di Xiaomi. Un cacciavite con la classica forma a pistola da 3,7 volt che però pare avere una bella coppia. E andremo a verificarlo tra poco. E soprattutto questo nuovissimo Wow Stick, di cui ho già la versione precedente, una delle prime versioni, che funziona a batterie classiche standard, ha due batterie mini stilo che permettono di utilizzarlo e che anziché essere alimentato in questo modo, ha la possibilità di essere ricaricato via USB. Quindi molto molto figo. Ma come faccio a parlarvi di questi prodotti se non andiamo ad aprirli? Per cui procediamo. Ed ecco qua il contenuto delle due scatole. Iniziamo dall'avvitatore più grande, diciamo. Oh, è veramente molto bello. Nella sua valigetta troviamo l'avvitatore, un cavetto di ricarica USB-C per ricaricarlo da qua sotto e una scatolina con tutti gli inserti. Tutto molto molto elegante. Design minimal e veramente ben realizzato. Andiamo a vedere l'altra scatolina. È sufficiente premere qua sopra e la scatola si apre a scorrimento. Scatola bellissima con guscio completamente in alluminio. Già solo questo è veramente uno spettacolo. Ed ecco il wow stick. Vi faccio vedere subito la differenza tra quello vecchio e quello nuovo. Quello nuovo è decisamente più compatto. Ha un bel grip nella parte qua davanti. Anche questo tutto realizzato in alluminio, come già anche il suo predecessore tra l'altro. E nella scatolina, oltre al wow stick stesso, troviamo tutta una serie di inserti con punte di ogni genere. Troviamo anche i cacciaviti a stella triangolare e quello a brugola, diciamo, triangolare. Che se non ricordo male serve per esempio per aprire i case degli oggetti della Nintendo. Che hanno questa forma un po' diversa dal normale. Ben 18 inserti di tipo corto e 6 apprezzatissimi inserti un pelino più lunghi. Che sono veramente comodi quando per esempio andiamo a smontare il portatile e abbiamo una vite che è infilata all'interno del case. E non ci arriveremo con le punte normali. La scatola è realizzata in plastica ma al di sotto degli inserti, sotto la plastica degli inserti, abbiamo dei magneti. Che ci permettono di tenere le punte in modo ordinato e soprattutto di non perderli. Nonostante sia molto semplice andarli a togliere, andarli a prendere dalla loro scatola, rimarranno comunque in posizione senza andarli a perdere. Vedete che i magneti sono anche piuttosto resistenti. Tornando al nostro cacciavitino, nella parte posteriore troviamo la presa di ricarica USB-C. Sempre nella parte posteriore abbiamo una piccola ghiera che ci permette di scegliere la potenza del nostro cacciavite tra 1 e 2. E nella parte anteriore abbiamo i pulsantini R e L che ci permettono per l'appunto di avvitare con R, girerà in senso orario, e L in senso antorario per andare a svitare. Vi faccio vedere la differenza tra le due potenze che lavorano come se fosse una piccola frizione. Quindi proviamo a potenza 1, faccio girare per avvitare, se provo a stringere la punta, a un certo punto lei smetterà di ruotare, come se ci fosse una limitazione sulla coppia. Se vado sulla potenza 2 e vado a provare a chiudere, vedete che questa limitazione non c'è più e quindi posso andare a stringere molto di più la mia vite. Devo dire che per quanto piccolissimo risulta essere piuttosto potente. Non so quantificare di preciso la coppia, ma è decisamente potente per la sua compattezza e per le sue dimensioni. Andiamo a ritirare la nostra punta e riponiamolo nella sua custodia. E passiamo all'altro nostro avvitatore. Come vedete design veramente bellissimo. Linee veramente minimali e realizzato molto molto bene. Anche in questo caso tutto il corpo è in alluminio. Nella parte inferiore abbiamo la porta di ricarica USB-C, sotto il dito ovviamente il grilletto per il funzionamento, nella parte posteriore una ghiera che ci serve per decidere il senso di rotazione. Non so se si riescono a leggere perché sono delle scritte incise leggermente nell'alluminio che dicono left e right, quindi senso di rotazione sinistro o destro, quindi orario o anti-orario. Andiamo per esempio a metterci sulla R e quindi per andare a avvitare. Vedete che appena faccio una leggera pressione si accendono le lucine LED per illuminare il punto dove andiamo ad avvitare e ovviamente inizia a girare. In questo caso non è regolabile la velocità. Nella scatolina, oltre ai bit standard, abbiamo anche l'adattatore per rendere i nostri bit magnetici. Quindi inseriamo questo e il suo inserto e vedete che la nostra punta diventerà magnetica, come ogni adattatore di questo tipo. Il metallo con cui sono realizzati gli inserti sembra di buona qualità, ma ovviamente solo il tempo riuscirà a dir la sua. Diciamo che con un avvitatore da 3,7V non andremo mai a esercitare una coppia eccessiva su queste viti, per cui il materiale non dovrebbe essere in ogni caso un problema. Ve lo saprò dire magari più avanti. Voglio fare adesso una prova con voi, proprio per vedere quanta coppia riusciamo a fare con questo avvitatore. Andiamo quindi a mettere l'inserto corretto per questo tipo di vite e proviamo a vedere se riusciamo ad avvitarlo nel legno così senza un preforo. Prendiamo quindi un po' di viti da 3,5x20 da legno e proviamo a vedere se riusciamo ad avvitarlo. Ho un pezzettino di legno veramente morbido, proviamo a vedere cosa succede. E direi che avvita senza alcun problema. Calcolate anche che non è mai stato ricaricato, quindi sto andando con la carica residua che mi arriva dalla casa. E poi ho questo pezzettone di truciolare molto molto compatto e un pezzo di un ripiano da cucina. Vediamo se riusciamo anche in questo caso ad avvitare. E anche in questo caso siamo andati giù piuttosto bene. Direi che si comporta molto bene. Adesso andrò ancora a fare una prova in quanto ovviamente l'attacco degli inserti è quello standard da 6 mm. E tempo fa ho comprato un set dell'Attac Life che oltre ad avere tutti i suoi inserti ha anche delle pratiche punte da legno che hanno l'attacco per l'inserto. Se dovete fare dei piccoli prefori con l'avvitatore per andarvi a avvitare nel legno sono una bomba. Comodissimi perché infilate la punta, fate il forellino, togliete la punta, inserto e andate ad avvitare. Voglio provare se riusciamo con punte di questo tipo a realizzare qualche foro di emergenza ovviamente all'interno del legno. Iniziamo dal legno morbido. E siamo arrivati dall'altra parte. Foro eseguito. Come vedete lo sforzo che ha fatto è stato sempre costante, non abbiamo avuto perdite di velocità per esempio. Proviamo anche sul trucciolare. E direi che anche in questo caso si è comportato molto bene. Ma visto che siamo per i test proviamo a vedere anche come si comporta il wow stick per quanto riguarda avvitare delle viti. Perché ovviamente non ho gli inserti da trapano di questa dimensione. In verità trattandosi di un cacciavite principalmente da elettronica non c'è nemmeno l'inserto adatto ad avvitare viti di questo tipo. Prendo una vite un pochettino più piccola, siamo a 3 mm per 20 e proviamo a vedere. L'inserto entra abbastanza bene anche se non è proprio il suo e proviamo a vedere se riusciamo ad avvitarlo. Ovviamente metterò la velocità 2 perché sulla 1 andrà a bloccarsi per la limitazione della coppia. E fa un po' di fatica. La cosa positiva è che questo cacciavite è un 2 in 1. Nel senso che possiamo avere l'alimentazione elettrica oppure utilizzarlo come un cacciavite normale. Vedete che lui riuscirà comunque ad essere utilizzato come cacciavite standard. Non rifate questa prova perché penso che gli inserti non durerebbero molto. Quindi abbiamo visto questi due prodotti. L'avvitatore elettrico Mijia di Xiaomi, questo cacciavitino che può essere utilizzato in modalità manuale o elettrica per andare a smontare per esempio i nostri device o i computer. Decisamente un oggetto comodo. Per di più piccolo e compatto ve lo potete anche portare ovunque senza troppo ingombro. E poi sempre da Xiaomi, sempre della serie Mijia, quest'altro avvitatore elettrico da 3,7V che però abbiamo visto avere una coppia molto buona che ci permette di andare ad avvitare nel legno per esempio come abbiamo fatto in queste prove senza fare grossi sforzi. Quindi due prodotti a mio avviso decisamente validi. Parlando di prezzi siamo intorno ai 50€ per quanto riguarda questo avvitatore e ai 35€ per questo kit. Forse un pochettino caro questo oggetto in quanto con la stessa cifra probabilmente riusciamo a prendere un qualcosa di anche un pochettino più prestante andando su altre marche. Secondo me invece è molto adeguato il prezzo di 35€ per questo set di cacciaviti elettrici per elettronica. In entrambi i casi andiamo a comprare comunque dei prodotti che oltre a essere funzionali sono anche molto belli e ovviamente il design come ben sappiamo si paga. Quindi per chiudere grazie a Ecca per avermeli mandati e avermi dato la possibilità di provare questi due prodottini. Come vi ho accennato tutti i link li trovate in descrizione per andare ad acquistare su questo nuovissimo store dove vi consiglio di andare a fare un giro per le categorie e di tornarci anche periodicamente in quanto il catalogo è in continua crescita. Anche per oggi abbiamo finito vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto se avete bisogno di informazioni sui prodotti che vi ho fatto vedere o anche sullo store Ecca stesso non esitate a chiedermelo nei commenti qua sotto. Come ben sapete cerco di rispondere sempre a tutti per quanto possibile. E ultima cosa iscrivetevi al canale per non perdere nemmeno un episodio. Il canale sta crescendo e questo mi permette di portarvi dei contenuti e dei prodotti sempre più interessanti. Per cui clic su iscriviti e clic su campanella. Anche per oggi da Andrea e da Sixty7Lab è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ragazzi! Grazie a tutti!